Non solo le notizie che non arrivano per i 29 dipendenti AXA licenziati, ma le speranze si affiavoliscono anche per i lavoratori Alba Service. La prima conseguenza di una provincia in rosso che collassa su se stesse è la sospensione dei servizi culturali, chiusura momentanea di museo e biblioteca del convitto Palmieri. Il 9 marzo è prevista la discussione a Bari, ma ad oggi la documentazione richiesta sulle partecipate da parte della regione è arrivata solo in parte. Completa quella di Salento Energia, metà quella di Alba Service. Siamo all'impazzimento generale, spiega la sindacalista della CGL Valentina Fragassi, perché da un carteggio delle ultime ore è emerso che l'amministratore unico Damiano Dautilia ha inviato solo i bilanci dal 2011 ad oggi e alla dirigente Gattulli, che ha esposto la necessità di avere documenti più approfonditi, ha risposto che la richiesta deve essere motivata. Dunque prima si chiede aiuto e poi non si è disposti a collaborare contando che parliamo di società a capitale pubblico. L'Osservatorio regionale per l'applicazione della legge del Rio chiede di conoscere il numero dei dipendenti, il numero e i costi dei collaboratori esterni e se le assunzioni fatte sono a tempo determinato oppure no. Un groviglio che si aggiunge a quello dei lavoratori AXA in presidio da venerdì a Palazzo Adorno. Come organizzazioni sindacali stiamo aspettando risposta al Presidente, perché venerdì del Consiglio ci è stato promesso, poi dopo che si poteva fare una variazione di bilancio e che aspettava una risposta dei tecnici della provincia. Ad oggi questa risposta ufficialmente non è arrivata e per questo abbiamo chiesto l'intervento anche della Prefettura per avere un incontro con la Presidente provincia, incontro che è stato anche, sembra, richiesto, comunque spinto anche da Loredana Capone e da altri parlamentari generali. Il 19 si tornerà in Confindustria per capire se la procedura di mobilità al momento sospesa possa essere revocata oppure no. Senso uno sblocco, tra 20 giorni sarà confermato il licenziamento. Anche qui l'avvertenza è in sé un paradosso. AXA si è giudicata il bando da 2 milioni e mezzo di euro per 8 anni per la gestione dei servizi nel convitto Palmieri. Dovevano partire a settembre ma il contratto non è mai stato firmato e nel frattempo, per esigenze di cassa, Palazzo dei Celestini ha disdetto anche quello in proroga.